ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo video tag già un video tag facciamo il video tag dei fratelli che figata che figata bellissimo vi presento a tutti mattia era una domanda ci sono solo più 9 domande la prima domanda vi presento a tutti mattia bene ragazzi facciamo questo video tag così per fare views e per fare soldi ma cominciamo subito con queste fantastiche domande che sennò qui non finiamo mai più allora la prima domanda è quanti anni avete io in c inizio perché sono l'ospedale io ho 15 anni e io ne ho quasi 20 e fa video su youtube seconda domanda descrivi l'altro con una parola coglione allora sei troppo tutto tu tutto tu sei tutto ma è più una parola più un aggettivo è scrivato con una parola una parola completo completo che non è il vestito per vestirsi no completo fa schifo completo fa proprio schifo fa schifo completo no io ho un po' che ti rappresenta un po' eh fare schifo essenziale essenziale ma dove cazzo li tiri fuori certe parole attenzione alla parola che dici perché potrebbe essere l'ultimo video che facciamo insieme unico unico ma meno male meno male che sei unico mattia dai dai questo video è finito creativo creativo ok cretino prossima la gente vi scambia mai sì la gente ci scambia ogni tanto qualcosa che ti dà fastidio dell'altro allora qualcosa che mi dà fastidio dell'altro i suoi capelli quando sono lunghi perché? perché fanno cagare quando hai capelli lunghi ragazzi scrivete un commento mi piacciono i miei capelli i miei capelli sono bellissimi fanno schifo una cosa che mi dà fastidio dell'altro cosa mi dà fastidio di te? e che cazzo ne so se è tu la domanda quando non c'hai voglia di far niente madonna pure tu che quando che quando non è che quando non c'hai voglia di far niente quando tipo dobbiamo fare qualcosa però tu non c'hai voglia c'è lo scazzo e ti metti a fare mille altre cose che non servono a niente che non servono a niente va bene è approvata approvata com'è essere il fratello di una persona che fa video? fa schifo ma cosa? infame tu non puoi rispondere io non faccio video ehm è bello bello perché poi ti chiede di fare questi video insieme perché lui senza di me non avrebbe un canale semplicemente e quindi è una bella cosa hai fatto due video con me tre ricordiamo i video che hanno più views aspetta oh sei un infarto vabbè litigate mai? no si beh cioè una volta di più una volta di più poi adesso che adesso che siamo cresciuti ma soprattutto che lui è diventato più grande cioè nel senso che ci siamo avvicinati un po' di più non dico a livello di età perché abbiamo sempre la stessa differenza di età no? si però adesso siamo un po' più grandi quindi no non litighiamo più litighiamo tipo allora quando giochiamo a minecraft che ci tiriamo le mazzate a vicenda si perché sono dei goloidi e poi basta leggendare cosa qual è la cosa migliore dell'altro? penso che abbia la parte di me che non ho io quindi quella un po' più coccolosa no questa la tagliamo no è vero è quella parte di me a cui piacciono gli animali che è un po' più attaccato alla mamma ma non in senso negativo in senso positivo è una parte che a me forse sono magari non lo so più tenero si esatto diciamo che piace più alle figlie che a me la cosa migliore dell'altro e allora la cosa migliore dell'altro secondo me se ce la fai se ce la faccio ci stavo pensando bene perché non so formularne le frasi pensa sempre a me cioè nel senso che tipo che ne so quando vuole fare qualcosa e pensa subito che io potrei dargli una mano e comunque non è un fratello che tipo ti lascia solo non gliene frega niente ma pensa sempre a qualcosa che posso fare anche io tu non so come spiegare mamma mia mamma mia prossima domanda fatti vedere in video bastarda questa è quella che ti viene tipo sul letto e ti fai massaggi mentre tu vorresti dormire schifosa guarda che schifo il ricordo preferito insieme oddio allora recentemente cioè perché ce n'è di ricordi che risalgono a tempi in memory quando io ero ancora più piccolo di questa quando non era ancora nato quando non era ancora nato di recente secondo me lavorare barra girare barra scrivere il frame my life che abbiamo fatto su pokemon che se non avete visto cliccate qua si quello è stato un bel ricordo ci siamo divertiti è stato bello lavorare insieme si direi che quello lì potrebbe essere più più recentemente poi si quello è quando siamo andati insieme al al wonder con si comunque è fare così insieme fare così insieme sono dei bei ricordi qua chiedono indovina qual è il cantante preferito dell'altro vasco brondi no vasco brondi non sa cantare Ed Sheeran allora si ascoltiamo la stessa musica si ascoltiamo la stessa musica quindi praticamente chi impiega di più a prepararsi e chi impiega di meno si potremmo fare una gara che impiega di meno a prepararsi si siamo due persone che ci prepariamo in tipo in 20 nanosecondi cioè prima di uscire in un minuto siamo pronti ci mettiamo più a fare colazione animale preferito il gatto cane cioè animale preferito il cane perché ci vivo tutti i giorni però un animale che mi piace anche tipo lo scimpanze la balena la balena in casa sono una balena qualcosa di strano che mangiate le verdure siamo vegetariani tutti e due ma mangiate il pesce ma il pollo quindi non mangi prossima domanda sono una fettina di prosciutto veloce avete un interesse in comune tutto quello che è creativo abbastanza io non faccio video però lui mi piace fare video a me piace cucinare il programma tv preferito breaking bad non è un programma tv è una serie tv programma tv non guardiamo tv programma tv mega costruzioni mega costruzioni con film mega cose epiche mega cose cazzo ci sono finite le domande sono finite le domande l'altra è hai mai truccato l'altra ma direi di vita ti metto il rossetto mentre dormi va bene niente ragazzi questo fantastico video tag che è inutile è un tappabuchi tipo però dovete comunque lasciare un mi piace un commento qua sotto condividerlo con tutti mettere un mi piace alla pagina facebook alla pagina facebook seguirci seguirci su instagram su instagram così così seguirci su instagram e naturalmente ragazzi se non l'avete ancora fatto qui sotto trovate il bottone per iscrivervi al canale e niente ragazzi noi ci vediamo se volete un altro video così scrivetelo nei commenti un altro video tag uguale no no se volete un altro video con mattia basta che lo scrivete nei commenti con l'hashtag vogliamo un altro video con mattia dai e ve prego ti supplico dai se volete farci delle domande se volete farci delle domande c'è ask qua sotto con l'hashtag con la patina facebook hastag 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 asconauta asconauta l'ignorato 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 e niente ragazzi noi ci vediamo la prossima settimana con un prossimo video e ciao belli ciao 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 ciao